Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Aeromanager. Come avete visto dal titolo, oggi facciamo il punto della situazione sugli attacchi gratuiti su web da parte di giovani, e forse non più giovani, leoni da tastiera. Chi come sottoscritto ha deciso di mettersi sul dominio pubblico deve metterli ovviamente in conto come parte del gioco. Ma devo ammettere che negli ultimi otto anni ho visto un crescendo negativo tremendo, dovuto in parte sicuramente all'aumento di gente che si avvicina al fitness, ma anche all'aumento del disagio generale in Italia, vivendo infatti all'estero da parecchi anni forse faccio più caso a questa cosa, e devo dire che è un termometro affidabile della situazione sociale. Dalla formulazione dei commenti di questi signori si capisce subito da dove proviene la fonte principale del loro disagio, è veramente inequivocabile direttamente, si capisce subito. L'attacco infatti nudo e crudo di perfetti sconosciuti da dietro una tastiera diventa spesso il riflesso delle loro insicurette di fondo, dei loro timori, delle loro paure. C'è chi ti attacca per esempio dandoti del dopato, spesso dopato di merda, perché indipendentemente dagli anni di esperienza di allenamento non è mai riuscito nemmeno ad avvicinarsi alla tua forma fisica, o perché magari il loro cugino, più esperto di bodybuilding, che a sua volta ovviamente non vuole sfigurare, gli ha detto che è impossibile arrivare al tuo livello senza fare uso di doping, o perché tutti gli atleti agonisti nel mondo del bodybuilding fanno uso di doping, o perché non esiste il natural bodybuilding, o perché glielo ha detto il re dei natura dell'universo. In questo caso ovviamente capite anche voi che è più facile accettare ed autoconvincersi che l'altro abbia utilizzato espedienti illegali per raggiungere quella forma fisica, piuttosto che ammettere a se stessi che non si ha la genetica per diventare un bodybuilder, o non ci si è impegnati abbastanza, o si è sbagliato tutto quello che si è fatto fino ad oggi. Ammettere i propri errori, ammettere di aver sbagliato, richiede davvero tanto coraggio e delle palle così. Personalmente non mi sono mai interessato di essere riconosciuto come il più grosso fra i bodybuilder natural, l'ho già detto più volte, non mi interessa mettermi in competizione con nessuno perché ho imparato fin dall'inizio nella mia carriera agonistica che avrei sempre trovato qualcuno sul mio percorso più grosso e più tirato di me. Chi mi dà del dopato chiaramente non ha mai messo il naso fuori dalla porta o mai salito su un palco di gare confrontato con altri atleti. Anche sul panorama italiano ci sono atleti ben più grossi e tirati di me, ma non vado a puntare il dito loro contro gridando al doping, sinceramente non mi interessa. Sono fiero e orgoglioso del mio percorso nei bodybuilding, di quello che sono riuscito a costruire, di come sono riuscito a trasformare il mio fisico, occupandomi sempre di tantissime altre cose. Ho sempre vissuto i bodybuilding come stile di vita, non come una gara continua contro tutti. Poi sinceramente ho obiettivi ben più nobili e interessanti che pensare a diventare solo il più grosso o il più tirato d'Italia, ma che fine poi per fare il fenomeno da circo e raccogliere l'approvazione di perfetti sconosciuti. L'altra accusa che ricevo personalmente più spesso è quella di pubblicare video, scrivere articoli, books, solo per il marketing. Ora, senza soffermarci sui miliardi di eccezioni della parola marketing che viene utilizzata da questi signori come una sorta di parola di insieme, un umbrella name che rende chiaro quanto sia decisamente sconosciuto il termine a questi signori, voglio solo ricordare che uno, i miei contenuti sono fondati su evidenti scientifiche che richiedono a volte settimane settimane di ricerca e di lavoro per produrre un video di oltre 10 minuti che già per la sua durata chiaramente diventa un video che non acchiappa visualizzazioni e non acchiappa likes. Due, se volessi fare del semplice marketing allora farei come tanti dei miei colleghi e sfornerei solo video virali con titoli come addominali d'acciaio in quattro mosse o come perdere peso per l'estate o l'allenamento degli idee perché chiaramente la gente vuole sempre sentirsi dire quello in cui crede, quindi non decisamente sfatare quelli che sono i miti legati al fitness. Poi da sempre non sono solo stato bravo a parole ma anche con i fatti e consigli e suggerimenti che metto nei miei video poi li metto in pratica nella mia quotidianità. Attenzione, questo non vuol dire che se io ho risultati facendo una cosa in un certo modo allora questo funziona per tutti, ma che se io stesso metto in pratica una strategia è perché ci credo, punto. Mi interessa sì ricevere visualizzazioni sui video YouTube ma non campo di quello, YouTube per me è solo un mezzo per un fine, quello di comunicare il mio messaggio a più gente possibile, magari anche per i poster, chi lo sa. Poi mi interessa sì è vero guadagnare con il mio servizio di personal training ma sinceramente come ho cambiato il mio lavoro un paio di anni fa sono pronto a rifarlo e a gettarmi in qualcosa di completamente diverso. Non ho paura del cambiamento, ho praticamente, se si può dire, cacciato nella pattumiera una laurea e due master in business per dedicarmi alla mia passione. Ho piena fiducia nelle mie capacità e spirito imprenditoriale. E a dire il vero questa cosa in realtà mi elettrizza tantissimo e sono in continuo stato di evoluzione. Mi piace la monotonia e consolidarmi su una cosa per lungo tempo. Il mio obiettivo rimane quello di rendere il personal training online superiore a quello offline, dare degli strumenti, dei tools ai miei atleti per renderli autonomi e capaci di muoversi autonomamente, non dipendere da me per sempre. Il mio obiettivo infatti rimane quello di aiutare più gente possibile a fare un percorso di evoluzione nel mondo del fitness, permettere loro di scegliere a chi affidarsi, a chi riporre la propria fiducia tramite gli strumenti del digitale. Io credo che il bodybuilding e il fitness difondendosi nelle masse ha preso delle connotazioni simili a quelle del calcio in Italia. La gente non sa nulla, si sente il dovere di esprimere la propria opinione per sentito dire o per sentirsi parte di un gruppo, far vedere che conosce la materia, sentirsi parte di una nicchia quando in realtà non si sa nulla. E questo è veramente assurdo, è veramente buffo anche, a volte fa sorridere, però mette anche tanta tristezza. Io credo che il bodybuilding, quello vero, lo fanno ancora gli atleti, quelli che in silenzio si allenano e salgono sui palchi di gara, quelli che come dei panthers continuano ad andare avanti perché amano questa disciplina e vogliono continuare a migliorare il loro fisico per arrivare alla migliore versione di se stessi. Il bodybuilding è fatto di questi signori, non da chi fa chiacchiere da bar e commenta gli altri seduti davanti a una pastiera. È chiaro che se ti metti a fare questo è perché parti da una situazione di disagio, di mancante autostima iniziale, di paura di non essere all'altezza di far parte della nicchia del gruppo dei palestrati. Ti senti emarginato e vuoi la tua rivincita, ma questo non dovrebbe essere l'atteggiamento da innescare. Pensateci, perché dovresti perdere il tuo tempo a criticare gli altri se vivi il bodybuilding come stile di vita e sei concentrato in realtà a lavorare sulla tua fisicità per far emergere negli anni la migliore versione di te stesso? Bene ragazzi, con anche oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, mettete un bel like a questo video, mi fa piacere se lo condividete, se apriamo appunto una discussione, anche vorrei sapere qual è il vostro punto di vista sul bodybuilding e fitness in Italia, come si è evoluto. Ovviamente sono in questo settore da parecchi anni, quindi ho visto decisamente diverse evoluzioni. Sono abbastanza nostalgico, devo dire, dei tempi passati, però ecco voglio sapere com'è la vostra opinione e cosa ne pensate di come appunto si sia trasformata l'industria del fitness anche in Italia. Scrivetelo qua sotto e ci vediamo alla prossima. Stay strong!